Glass Onion Knives Out è un film del 2022 scritto e diretto da Ryan Johnson, che qui è alla regia, appunto, oltre che alla scrittura, del, a questo punto, secondo capitolo della saga Knives Out, cominciata con il suo Cena con Delitto nel 2019. È questa l'occasione per noi di ritrovare, appunto, un film di Ryan Johnson alle prese con un mystery movie, un giallo di fatto, e soprattutto di ritrovare il detective Benoit Blanc, nuovamente interpretato da Daniel Craig, che si è, a mio avviso, ottimamente reinventato, dopo essere stato il mio 007. Siamo nel 2020, nel piano della pandemia, ed è questa l'occasione per un gruppo di varie persone, in realtà, vari amici, che facevano parte di un gruppo di amici, appunto, di ricevere una scatola, una scatola di legno contenente determinati rebus, ingagno, quant'altro, e una volta risolti questi, ci sarà la possibilità per loro di ricevere un biglietto. Questo biglietto è un invito da parte di uno dei loro amici, appunto, Miles, il magliate multimiliardario che sta sull'isola, sperduto quant'altro, Edward Norton, che li inviterà, appunto, a trascorrere il fine settimana nella sua isola. In questo fine settimana, loro avranno un enigma da risolvere, ovvero sia una sorta di Cena con Delitto, in cui la vittima, come regola, sarà lui. Capiterà però che, su tale isola, finirà anche il detective Benoit Blanc, questo detective assolutamente brillante, al tempo stesso viziato e vizioso, un pochettino pigro e, in qualche modo, depresso dal fatto di non avere dei casi sufficientemente stimolanti, che si ritroverà, quindi, immerso in questo mistero. Un mistero che, in realtà, andrà anche oltre quelle che erano le pianificazioni del suo artefice, o inizialetale, appunto, e che ci darà la possibilità, a mio avviso, di vedere un film assolutamente brillante. Un film brillante, sono contento di averlo visto in sala, prima ancora che, eventualmente, dallo streaming Netflix, infatti questo è comunque un film originale Netflix, e devo essere sincero, al termine di questa visione, essendo rimasto così colpito positivamente, devo dire che le remora che potevo avere quando ci fu l'annuncio di una prosecuzione di questo filone, sono completamente andate via, e anzi, in realtà, vorrei che questo secondo film fosse il secondo di una saga destinata a durare anche più di un eventuale terzo film, e che so già essere in procinto di essere sviluppato. Brillante il cast, il cast che vede vari ruoli dello show business e di Hollywood o quant'altro, in realtà, in vari ruoli, abbiamo, ad esempio, la governatrice, abbiamo la magnate decaduta, abbiamo lo scienziato, abbiamo lo streamer, abbiamo la stilista, abbiamo eventuali personaggi secondari, abbiamo tutti quanti questi personaggi, secondo me, ottimamente riusciti, ottimamente riusciti, al servizio, in realtà, della storia, e al tempo stesso riescono a sfruttare quello che, teoricamente, dovrebbe essere il protagonista, Benoit Blanc, appunto, che in realtà riesce a rendere loro, per certi versi, ancora più riusciti, dandogli, appunto, determinati momenti per mostrare la loro caratterizzazione, e, al tempo stesso, per vedere la loro parte di quello che sarà, ovviamente, l'intrigo complessivo. Un intrigo complessivo, molto macchiavellico, in realtà, che vedrà, per certi versi, la persona più insospettabile, in realtà, al centro di tutto quanto, in realtà, un pochettino ho avuto modo di riecheggiare la memoria Oxford Morders, un film che ho molto apprezzato in passato, e, al tempo stesso, questo film mi ha colpito positivamente, perché riesce, in qualche misura, a rigirare un pochettino alcuni degli elementi tipici dei film misteri, appunto, dei gialli, e, in qualche modo, sovverte determinate carte in tavola rispetto a quello che lo spettatore potrebbe aspettarsi. Un pelino lungo, forse, questo film, il predecessore, quantomeno mi è sembrato volare via un pochettino meglio, però, data la natura, a un certo punto, di quella che è la storia di questo film, in cui avremo modo, a un certo punto, di avere una netta interruzione, se vogliamo, della linearità del racconto e un riavvolgersi della storia per mostrarci determinate cose, che non potevamo vedere in precedenza, devo dire che, tutto sommato, alla fine, credo che quello che ho visto sia stato tutto quanto ben commisurato e giusto rispetto a quello che si voleva proporre al pubblico. Il finale è un pochettino buonare, per certi versi, per quella che è una certa risoluzione, in realtà, di una certa dinamica, però, in realtà, la messa in scena complessiva, il montaggio, la regia, le interpretazioni, il ritmo complessivo di tutto quanto, davvero mi ha colpito positivamente, e quindi sono assolutamente contento di aver visto questo sequel, Nikes Out, appunto, Glass Onion, che, per certi versi, dal punto di vista tecnico, mi ha anche convinto, se per questo, in maniera maggiore rispetto al predecessore, che, sebbene nel complesso apprezzi di più, comunque, credo che abbia, con questo secondo film, che può essere visto in realtà in maniera assolutamente slegata alla predecessore, un'ottima prosecuzione, una prosecuzione che, se in futuro continuerà a essere di questo livello, spero sia destinata a durare anche oltre l'eventuale terzo film, che so già essere in procinto di essere fatto. Glass Onion, Nikes Out, una piacevolissima, piacevolissima visione. Guardatevelo. Grazie. Grazie.